Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Da 24 ore il Pini è interessata da una perturbazione a carattere ventoso che sta creando notevoli disagi. La situazione più grave si è creata a Forino, dove un albero di grosso fusto si è inclinato a causa delle forti raffiche di vento. Un'abitazione situata nelle immediate vicinanze a scopo precauzionale è stata evacuata. Sono decine gli interventi fino a questo momento effettuati dai vigili del fuoco della centrale operativa, impegnati soprattutto per alberi e rami caduti su carreggiate. Altri interventi hanno riguardato tegole e comignoli pericolanti, lamiere e recensioni di belte. La sala operativa del comando di via Zigarelli sta impegnando le squadre della sede centrale e dei vari distaccamenti per far fronte a tutte le richieste di intervento. Il vento sta creando problemi anche nella zona del mandamento baianese, dove le raffiche di vento stanno provocando disagi sull'intero territorio. Dei balconi di alcuni condomini sono stati spazzati via arredamenti esterni in plastica. Si segnalano finestre rotte, alberi piegati, intonaci venuti giù da fabbricati più datati. Come dimostrano le foto pubblicate dal sito Basse Erpinia, sembra essere proprio Baiano il comune più colpito, dove nei pressi della rotatoria di via nazionale anche la segnaletica stradale e orizzontale in plastica è stata spostata dal vento. Nei pressi della stazione della Circonvesuviana un palo della pubblica illuminazione è stato oggetto di interventi per evitare che lo stesso finisse a terra. Pezzi di marmo e intonaci si sono staccati anche dalla facciata della stazione, alberi e rami pericolanti, tabelloni pubblicitari di Veltia da Bella come a Sperone e negli altri comuni del mannamento.